Bene, buongiorno a tutti, grazie di essere qui così numerosi, grazie ai relatori che hanno accettato di partecipare a questo incontro di oggi dedicato a leggere alle origini dello studio di Bologna. Questo incontro è il penultimo di questo quinto ciclo del terzo anno di questo seminario. Questo seminario è nato all'interno del comitato scientifico della BDU, organizzato e sostenuto in collaborazione con l'ex facoltà di lettere, attualmente con la scuola di lettere e beni culturali e sostenuto dall'Ateneo che ha contribuito e ha sostenuto vivamente questa nostra iniziativa di difesa in qualche modo della cultura del libro e della cultura della lettura. Questo seminario è stato ispirato dalla convinzione profonda che in fondo la lettura sia una forma di vita, una modalità della vita, un modo per prolungarla, per arricchirla, per renderla anche più interessante. E del resto la convinzione che anche la vita possa essere considerata come una sorta di libro da scrivere, da interpretare, da riscrivere, da correggere talora e comunque da completare nella sua redazione. Lo diceva in fondo Montaigne quando parlava dei suoi saggi e diceva questo libro ha fatto me così come io ho fatto lui. Ecco questa consustanzialità del libro con la vita dell'autore. Se per Montaigne era effettivamente l'espressione di un io che diventa l'oggetto del mio libro, per noi che non siamo tutti autori è comunque una possibilità nel senso che noi in qualche modo facciamo i libri che leggiamo e diventiamo i libri che leggiamo. Negli anni precedenti 24 incontri sono stati organizzati su due anni, il primo anno dedicato al libro come oggetto, alla sua definizione, alla sua metaforologia, alla sua iscrizione nelle varie discipline. Il libro del mondo, il libro dell'io. Il secondo anno è stato dedicato alla lettura, leggere è stata l'imperativo che ci siamo dati nel secondo anno come a transitare dall'oggetto, il libro, all'attività che dona significato ad esso libro. Una transizione appunto dall'oggetto al lettore in qualche modo. Quest'anno leggere e studiare abbiamo in qualche modo intensificato il tema della lettura con il tema dello studio anche per interrogarci sui diversi modi e sui diversi approcci e sui diversi significati che leggere e studiare possono assumere nelle varie discipline e nei vari ambiti disciplinari e in questo senso abbiamo tenuto in modo particolare a convocare i vari saperi nell'idea che ci possa essere davvero un dialogo tra le varie culture. Abbiamo leggere e studiare assume significati diversi nei vari ambiti in cui è declinato. Quindi abbiamo chiesto alla medicina, abbiamo chiesto alla pittura, abbiamo chiesto all'astronomia, alla geografia e oggi appunto alla giurisprudenza di comunicarci questa attitudine diversa che implica leggere e studiare in vari ambiti. Un dialogo tra le varie culture, ecco non pretendo di essere così ambiziosa nel progetto, ma è certo che è un interesse diciamo per le varie culture che in una biblioteca di discipline umanistiche può trovare un interesse. Ora, quello che oggi, la giornata di oggi, se è vero che la lettura è un modo della vita, una sua attività consustanziale, io sono molto montegna da questo punto di vista, allora anche la modalità con cui si legge è una modalità della vita ed è impegna, le varie modalità della lettura impegnano anche un significato diverso della vita e del pensiero. Come si legge? Dove si legge? Sono domande che integrano a mio parere il significato di che cosa si legge e per quale finalità si legge. Pensiamo per esempio alla iconografia dei filosofi antichi. Nessun filosofo antico legge. Non so se abbiate presente. La filosofia antica come dialogo. Sto pensando a Socrate che maledice il Dio che ci ha comunicato la scrittura perché ci ha tolto, ha tolto noi a noi. E quindi è una filosofia che è data dal dialogo, dalla parola, dalla discussione, piuttosto che non dalla lettura. Penso invece all'iconografia di come si legge di un Petrarca. Petrarca vestito appunto in toga che legge a voce alta davanti ad un leggio in un'attitudine che è insieme quasi religiosa, di culto religioso dei testi sacri. Sacri e profani ma comunque sacri perché appartenenti alla umanità e agli antichi in particolare. Sappiamo che Petrarca, che non sapeva il greco, comprava codici greci da tenere nella sua libreria. E penso anche un altro esempio è ancora quello di Machiavelli che come voi sapete passava la sua giornata nel Tricatrac e poi la sera indossava abiti curiali per leggere. Condividendo questo pantheon appunto di sapere e di alta umanità. Ma penso anche a Montaigne, alla lettura invece casuale, occasionale di Montaigne che apre un libro poi lo chiude se questo libro lo annoia. Che legge mentre cammina perché dice come le mie gambe si intorpidiscono stando seduto così la mia mente si intorpidisce se non mi muovo. Cioè questa modalità della conversazione aperta per cui i libri sono amici, le parole sono carta. Amici che io posso chiudere quando mi sono stancato di leggerli e che non dicono nulla, che sono assolutamente, come dire, pazienti rispetto alla mia modalità. Ma penso anche a quella iconografia straordinaria di un Descartes, ovviamente sempre Descartes, sì sempre Descartes, che appunto, Descartes leggeva poco. Leggeva poco perché appunto aveva l'idea che se c'era qualche cosa di giusto ci arrivava lo stesso lui e se c'era qualcosa di sbagliato non era il caso. Cioè vedete quell'attitudine assolutamente razionalistica e fondamentalista in qualche modo, radicale certo. I libri sono carta piena di inchiostro. Salvo poi quando è diventato più vecchio anche lui ha cominciato a darsi questa modalità della lettura. Ecco però c'è una bella iconografia che lo introduce in uno studiolo dove sta scrivendo ai piedi a un volume con scritto sulla costa Aristotele e la sua gamba insiste su questo volume come per allontanare, come per sostituirsi ad Aristotele nella nuova filosofia moderna. E penso, e qui arrivo a noi, e penso a quella bella illustrazione che fortunatamente Nicoletta mi ha consentito di ritrovare visto che io oggi non sono riuscita a trovarla, che è quella tomba di Giovanni D'Alegnano che è al Museo Civico Medievale di Bologna e che introduce uno spaccato, c'è questo basso rilievo, che introduce uno spaccato di studenti che leggono nello studio di Bologna. e ci sono tre lettori, c'è il lettore attento che sta sfogliando una pagina di questo volume, c'è un lettore che sta dialogando con un collega, un amico, a partire da un testo che ha aperto davanti e c'è un lettore distratto e malinconico che tiene il libro con un'attitudine del malinconico, da democrito malinconico con la mano appoggiata, svagato e distratto. e trovo che queste tre figure, queste tre letture possano introdurre in modo adeguato la giornata di oggi, lascio la parola ai relatori, mi scuso di averla presa ma quando parlo di libri io non ho limiti. Lascio la parola appunto a chi comincia dei due? Nicoletta, Nicoletta Sarti. Nicoletta Sarti è presidente della scuola di giurisprudenza, professore di storia del diritto medievale e moderno, studiosa della cultura giuridica a Bologna e in Italia a partire dall'unità. Credo che effettivamente siamo nel momento originario, eliminare della lettura dell'Università di Bologna e le chiediamo come eravamo per pensare come potremmo essere. Grazie. Intanto grazie a Maria Franca Spallanzani per averci invitato e a tutto il comitato scientifico di questa bella iniziativa della BDU che ci ha chiamato qua. Noi siamo degli storici del diritto, una volta ci chiamavamo storici del diritto italiano, adesso dai settori scientifico disciplinari siamo stati ribattezzati storici del diritto medievale e moderno, ma sia io che Andrea siamo dei medievisti fondamentalmente studiosi delle origini dello studio e soprattutto della scienza giuridica bolognese basso medievale. È per me un'occasione importante questa, io non andrei a liaison dangereuse con il mondo delle lettere e della filosofia da sempre, io no, quindi sono anche un po' intimidita dal trovarmi davanti a un pubblico di docenti e studenti con una formazione diversa dalla mia, ma con un linguaggio non credo poi alla fine tanto diverso. Parto da una rettifica, quando ho comunicato alla collega Spallanzani il titolo di questo nostro incontro, così anche per necessità di rapidità, dovendo convenire intorno al tema leggere e studiare, che è quello di questo quinto ciclo di conferenze all'interno dell'iniziativa Ex Libris, le ho indicato leggere alle origini dello studio di Bologna. Preparando questo intervento poi in realtà mi è venuto in mente quale era il titolo più appropriato e quindi vi prego di pensare a quello che sia io che Andrea diremo secondo questa piccolissima diversa declinazione, leggere i libri legali, le origini dello studio di Bologna. I colleghi mi hanno riconosciuto, mi riconoscono di solito una certa capacità nell'individuare i titoli, che peraltro con l'età si accompagna ad una progressiva incapacità a riempire i titoli di contenuti, quindi spero, il titolo è bello, spero che sia soddisfacente anche il contenuto. E prima di tutto una premessa è indispensabile. Cosa dobbiamo intendere per studio di Bologna noi che siamo abituati a pensare, a comunicare con orgoglio ed entusiasmo l'antichità della nostra istituzione e la priorità dello studio di Bologna fra le istituzioni universitarie del mondo occidentale, quello che comunque nell'undicesimo secolo era l'Europa occidentale, ma il mundus dell'epoca. E questo porta a precisare questa antichità, comporta da una parte un restringimento di focus che forse può dispiacere un po' al nostro orgoglio dei bolognesi, ma comporta dall'altro un modo di circostanziare l'immagine, la realtà del fenomeno bolognese che dà maggiore significato di importanza a questa antichità, a questa priorità. Bologna può dirsi a pieno titolo il primo centro scolastico, e uso questo termine non a caso, che dove nel mondo occidentale si avvia una tradizione nella quale viene impartita una formazione in senso proprio giuridica, dove l'insegnamento della scienza Iuris per la prima volta si autonomizza all'interno e al di fuori, divenendo prima ARS, poi addirittura scienza al pari della filosofia, dall'interno al di fuori e accanto al sistema delle arti liberali. fenomeni scolastici in Italia e nell'Europa occidentale legati a spontanei insegnamenti nei quali venivano alfabetizzati e in più acculturati giovani discenti, secondo il sistema delle sette arti liberali erano fenomeni ricorrenti, che erano così carsicamente sopravvissuti anche durante la stagione alto medievale, che ovviamente si rivitalizzano fra X ed XI secolo, solitamente gestiti dalle istituzioni ecclesiastiche del territorio, quelle afferenti ai grandi fenomeni monastici o nelle città legate agli episcopi. Si insegnavano anche rudimenti di diritto, quelle che noi oggi chiameremmo, cioè brevi cenni di una formazione giuridica istituzionale, che rientravano, che non avevano peraltro una dignità di arte, perché il sistema delle arti liberali per quanto attiene alla coine delle arti della parola e del pensiero, le arti sermocinali prevedeva la grammatica, la dialettica e la retorica. E quindi queste istituzioni, questi fondamenti destinati a chi aspirava a un impegno nel mondo pratico del diritto come causidico, avvocato o giudice, facevano parte della formazione della retorica in quanto arte della parola e dell'esposizione e quindi anche del modo di porgere l'argomentazione giuridica e della dialettica all'interno della quale entrava anche la logica dell'argomentazione giuridica. A Bologna, con buona approssimazione, seconda metà del undicesimo secolo, una generazione di uomini colti formati, secondo la tradizione del tempo in Artibus alla scuola delle arti liberali, colgono, si incontrano con il fenomeno, vedremo quanto casuale, del ritorno nel circolo della pratica prima, della cultura poi, dei monumenti della compilazione giustinianea. È un incontro di libri e di uomini che questi libri sono in grado di leggere e sono in grado di capirne l'adeguatezza non di monumenti di una lontana cultura giuridica da celebrare, ma come testi di diritto da rivitalizzare, adattissimi alla rinascente società europea, diciamo, dell'undicesimo secolo, che è il secolo del rinascimento medievale a 360 gradi per eccellenza. Solo in una seconda fase più matura, quella che si incentra nel secolo tredicesimo, secolo d'oro di Bologna come studium, possiamo parlare di vera e propria organizzazione e di organizzazione universitaria, perché a Bologna il modello dell'organizzazione è quello sulla base della corporazione degli studenti, gli stranieri, gli italiani, i citramontani, gli ultramontani, anzi, e i citramontani, che segnano il modello bolognese e lo marcano rispetto a quello parigino, dove il centro, il nodo della struttura era l'organizzazione in collegio, invece, dei docenti. Siamo intorno alla metà del 200 e sono del 1252 i primi statuti, il primo frammento che ci è giunto, di statuti della corporazione universitaria degli studenti bolognesi. Con la fine del tredicesimo secolo avremo a Bologna un vero e proprio studium, un'istituzione organizzata sulle corporazioni studentesche, sulle università e sui collegi dei docenti, che solo con la fine del tredicesimo, l'inizio del quattordicesimo secolo, a loro volta, si organizzeranno anche a Bologna in collegi. Ma all'inizio sono scuole, scuole private, scuole legate a singoli maestri, che molto spesso nelle loro case, contrattando le condizioni di insegnamento con quanti aspirano a divenire loro studenti e pagano per ricevere le lezioni, cominciano a insegnare, a leggere, anzi, i libri legali. E vedremo poi le valenze, molte, di questo leggere i libri legali. Una precisazione sul quando tutto questo avviene. Bologna ha celebrato due compleanni del suo studio, l'ottavo ed il nono, 1888, il primo, 1988, che io ricordo, qualcuno di voi anche, il secondo. Compleanni che sono compleanni convenzionali, perché il 1088, indicato come la data di nascita dello studio di Bologna, ma in realtà di questo fenomeno scolastico che è ancora studio Donnera, è data convenzionale, che come tutte le date convenzionali ha qualcosa di vero e qualcosa di artificioso. L'artificioso è presto detto, magari gli studenti non lo sanno, e quindi insomma è interessante dirlo, credo, ricordarlo per altri, legato alla necessità nell'Italia postunitaria di rivivificare, riallineare lo studio di Bologna, che aveva vissuto decenni molto cupi durante il Risorgimento e anche nei due secoli precedenti, diciamo, all'interno dello stato della Chiesa, ma il passato prossimo era stato veramente molto fosco, pochi studenti, pochi buoni professori, un'operazione quindi di immagine, di evento, in un qualche modo artificiosamente creato per rilanciare Bologna, ma con delle fondamenta assolutamente attendibili. Un comitato scientifico prestigioso, il rettore Luigi Cappellini, Giosuè Carducci, che era stato chiamato sulla cattedra di letteratura italiana proprio per rinverdire i fasti dell'Ateneo Bolognese, due ottimi professori della facoltà giuridica, che erano Cesare Albicini e Giuseppe Ceneri, e quello che era un po' defilato, ma il vero Deus Ex Machina, della iniziativa scientifica, intendo non tanto di quella così celebrativa, il vice direttore della biblioteca universitaria Corrado Ricci, che era un notissimo diplomatista ed archivista, al quale era stato affidato il compito, siamo intorno agli anni 80, all'inizio degli anni 80 dell'Ottocento, di individuare un anno, un dies a quo storicamente attendibile. Alla luce dei documenti che erano recentemente riemersi, la scuola storica, in specie quella tedesca, aveva in quei decenni lavorato moltissimo, era recentissima la pubblicazione della famosa Ghegicht, della storia del diritto romano del Medioevo di Federica Alfon Savigny, che aveva messo a disposizione una grande rosa di documenti proprio sulla prima stagione di attività dei maestri bolognesi, sull'attività di Ernerio e dei suoi allievi. Ricci mette insieme la documentazione nota ed indica un lasso di tempo credibile, ricompreso fra il 1075 e il 1090, come inizio di questo fenomeno di insegnamento sui testi del diritto romano giustinianeo. Nel 1088 era già stata fissata un'importantissima iniziativa, che era l'Expo, quella che si può chiamare una esposizione nazionale dell'industria e dell'artigianato, per la quale, per esempio, si era stato provveduto a bonificare una parte della prima periferia bolognese e a creare quelli che poi sono i nostri giardini Margherita, che sarebbero stati il centro dell'esposizione con gli stand, e quindi cosa di meglio che fare convergere intorno al 1888 queste due iniziative. Il 1888, d'altra parte, è data da non prendere per oro colato, ma assolutamente ragionevole o intorno alla quale ruota l'inizio del fenomeno delle scuole di diritto nelle quali a Bologna si cominciano a leggere i libri della legge. Cosa si deve intendere per libri legali o per libri della legge? I monumenti del diritto romano giustinianeo. La compilazione giustinianeo era stata promulgata sei secoli prima, al 1888, fra il 529 e il 534 dall'imperatore giustiniano. Era organizzata in diverse raccolte. Il codex, un dodici libri contenente le costituzioni degli imperatori d'Occidente e d'Oriente da Costantino, il primo imperatore cristiano, fino a giustiniano medesimo. I 50 libri del digesto che contenevano il diritto giurisprudenziale, il meglio, il fiorfiore della giurisprudenza romana classica. I quattro libri delle istituzioni, il manuale istituzionale diretto alla formazione dei giovani che frequentavano le grandi scuole giuridiche di Costantinopoli e di Berito e che sintetizzava il contenuto del codice. Dopo il 534, Giustiniano continua a, diremmo noi oggi, legiferare, emana una nutrita serie di costituzioni che prendono il nome di novelle, proprio perché nuove costituzioni esterne al codice e che verranno poi raccolte privatamente ed avranno una loro buona circolazione nel corso anche del basso medioevo. Questi sono i libri della legge, i libri legali. libri legali che nel 554 Giustiniano aveva provveduto una volta recuperata l'Italia, oramai provincia italica, con la guerra che appunto si chiama Greco-Gotica che vede l'esercito bizantino guidato da Belisario e Narsete faticosamente in trent'anni averla vinta sugli Ostrogoti Giustiniano provvede con un provvedimento amministrativo notissimo agli storici del diritto la pragmatica sanzio richiesta da addirittura pare questo recale intitolazione dal pontefice Vigilio ad inviare in Italia quasi certamente a Ravenna sede del suo la capitalina d'Oriente con l'esarca che faceva le veci dell'imperatore il complesso normativo che era stato da poco promulgato ma altrettanto di lì a poco comincia la discesa dei Longobardi il loro progressivo radicarsi nella parte occidentale della penisola che in un qualche modo seppellisce questo patrimonio normativo che riappare in momenti imprecisati e per vie imprecisate sulle quali possiamo peraltro avanzare qualche ipotesi nell'arco cioè fra la fine nell'arco dell'undicesimo secolo diciamo del del 1000 quali sono stati i canali di questa ricomparsa che la storiografia giuridica ha chiamato rinascimento giuridico dell'undicesimo secolo il primo rinascimento che la storia d'Europa ha conosciuto c'è una notizia suggestiva che ci arriva proprio dalla scuola di Bologna dalla generazione dei glossatori duecenteschi di un glossatore notissimo che si chiama si chiamava Odofredo Denari ed uno dei tre glossatori sepolti nelle belle arche che sono dietro l'abside della chiesa di San Francesco Odofredo vive intorno alla metà del 1200 ed aveva l'abitudine nel tenere le sue letture le sue lezioni di alleggerire un po' la pesantezza del dato dogmatico con una ricca anedotica che insomma rallegrava un po' probabilmente rallegrava molto lui ma forse anche i suoi studenti era un chiacchierone raccontava aneddoti sui maestri che lo avevano spesso anche un po' così un po' maliziosi con un po' di pruderì ma ci ha anche lasciato moltissime notizie sulla stagione delle origini dello studio notizie che i maestri si erano tramandati che quindi non poco di vero dovevano avere commentando un passo del digesto un titolo il titolo De Justizia et jure all'interno della lettura di Odofredo al digesto vecchio la prima parte del digesto e quest'opera si chiama proprio lectura ad intendere già quello dove poi voglio andare a parare che leggere lezione lettura si identificano nella tradizione della didattica della prima stagione bolognese Odofredo ci dice in primo Cepit studium esse in cività teista cioè a Bologna in Artibus era del tutto normale che all'inizio la tradizione di insegnamento bolognese fosse una tradizione di insegnamento delle arti liberali et cum studium esset destructum Rome libri legales fuerunt deportati ad civitatem Ravenne et de Ravenna ad civitatem istam Odofredo traccia proprio un itinerario i libri della legge erano inizialmente a Roma Roma viene distrutta probabilmente dai sacchi e dagli incendi delle popolazioni germaniche barbariche che ne fanno scempio qualcuno non sappiamo chi ne percepisce l'importanza del valore anche semplicemente simbolico in quei secoli oscuri e li trasferisce fortunosamente a Ravenna sede dell'esarca e da Ravenna arrivano a Bologna è un itinerario suggestivo sul quale sono corse molte pagine forse fra le più belle per esempio di Gina Fasoli che ci ha dato in questo senso delle prove a contrario non c'è nessuna testimonianza non è rimasta nessuna testimonianza che possa suffragare questo itinerario e soprattutto che possa suffragare il legame da Ravenna a Bologna anche se continua a parerci un itinerario vista la vicinanza visto il ruolo politico che Ravenna aveva avuto in età alto medievale molto attendibile un'altra ipotesi in questo caso un'ipotesi storiografica ed è quella che alla quale io così sono particolarmente propensa a credere è quella che ci ha proposto ancora in decennia recentissimi un grande maestro vivente della storia giuridica medievale come Ennio Cortese e che ha indicato nel riformismo gregoriano e nel grande fervore culturale che intorno al movimento riformista e antiriformista si muoveva uno dei più probabili canali per la riemersione dei manoscritti che contenevano i monumenti del diritto giustinianeo tenendo presente che il diritto giustinianeo nel suo complesso poteva fornire argomenti giuridici robustissimi sia a favore dei sostenitori dei riformisti sia a favore di quanti alla riforma e soprattutto al primato dei fontefice sull'imperatore si schieravano a favore del primato dell'imperatore perché era un complesso normativo emanato dall'ultimo grande imperatore erede della tradizione degli imperatori d'occidente e d'oriente prima che l'impero diventasse a tutti gli effetti bizantino e quindi qualcosa di molto staccato dall'occidente e vivesse una vita sua propria a favore del primato del pontefice perché giustiniano era stato l'imperatore cattolicissimo per antonomasia che aveva colorito la sua legislazione con una connotazione fortemente cristiana e con molte costituzioni che in questo senso deponevano quindi molto materiale si poteva trovare a favore a sostegno per argomentare le raccolte dei vescovi riformisti dei decretali dei pontefici che la riforma sposano sia stato questo il canale più ragionevolmente riconoscibile come traghettatore e soprattutto come così momento di recupero importante dei manoscritti del diritto romano giustinianeo è dato di fatto testimoniato da documenti che nella seconda metà dell'undicesimo secolo nella seconda metà del mille manoscritti che contenevano il codice di giustiniano le novelle di giustiniano nella versione riassunta dell'epitome di giuliano qualcosa del digesto erano già in circolazione e ci troviamo a questo punto davanti procedo per fotografie naturalmente perché la storia è molto più variegata di questo ma credo che ai fini di quello che vogliamo che voglio dirvi e voglio che vi raggiunga trovo sia importante avere cogliere delle immagini suggestive abbiamo due generazioni di maestri in arti che si incontrano e si confrontano con questo patrimonio normativo e due figure emblematiche che rappresentano il vecchio e il nuovo modo di utilizzare nel mondo della pratica e insegnare sul versante scolastico i libri legali le figure sono note penso a buona parte di voi e sono quelle di pepo e di ernerio entrambi legum doctores così le fonti che li vedono attivi li chiamano l'ernerio anche in altri documenti è definito causidicus e definito iudex a significare un'attività che era ad un tempo magistrale ma anche di impegno professionale legum doctores che hanno probabilmente entrambi ricevuto una formazione in artibus quindi nascono maestri di arti liberali sono distanziati da un decennio poco più ma che fa la differenza per quanto riguarda pepo abbiamo una data certa del 1076 nel quale a Marturi l'attuale Poggi Bon si viene celebrato un processo famosissimo non solamente per la storia del diritto medievale ma per la storia medievale Tucur presso la corte giudiziaria della contessa e marchesa grande feudataria Beatrice di Canossa madre di Matilde il caso non è rilevante in questa sede quello che è rilevante è che fra è che fra i giudici del collegio giudicante di Matilde di Canossa ci fosse anche un pepo legis doctor e che la sentenza venisse argomentata citando fra l'altro un frammento del digesto fino ad allora vera araba fenice quello che probabilmente è l'unica parte della compilazione giustinianea che nel corso dell'alto medioevo subisce un silenzio una lunghissima eclissi e che vediamo anche con qualche disinvoltura che indica esperienza e manualità citata da questi giudici fra i quali siede anche un pepo legis doctor probabilmente che insegnava a Bologna con buona così dimestichezza le date che noi abbiamo per la famosissima lucerna Iuris svariano fra all'interno di una drappella di documenti che sono ricompresi fra il 1112 e il 1118 quelli certi che vedono Ernerio fare da giudice da avvocato da consulente dell'imperatore Enrico V comunque impegnato fra Bologna e Roma sempre ad altissimi livelli di una generazione quindi posteriore rispetto a Pepo ma vediamo come è sempre ancora una volta Odofredo assegnare la differente attitudine di questi due maestri ci dice Odofredo sempre leggendo è il seguito del passo che vi ho letto prima la lettura al titolo De Justizia et Iure Quidam Dominus Legalis Cepit per sé studere in libris nostris et studendo cepit leggere il legibus c'è già un po' tutto quello che vi voglio dire e vorrei che vi arrivasse in questo passo di Odofredo c'era un maestro pepo che di sua iniziativa spontaneamente comincia a leggere i libri della legge che vuol dire che non solo li legge ma li insegna un maestro che secondo Odofredo non ha lasciato grande traccia nella prima stagione della scienza giuridica bolognese tale che i posteri debbano ricordare o peraltro se non che per essere stato uno dei primi su questo poi gli storici del diritto hanno scritto fiumi di inchiostro adesso c'è un recupero della figura scientifica di pepo ma è storia che non ci interessa a fronte di un pepo che si trova davanti o per le mani i libri della legge capisce che meglio rispondono rispetto alla tradizione normativa l'orgobardo franca che fino allora si era usata a regolamentare una società in un trend crescente di traffici e quindi di esigenze di strumentazione giuridica più raffinata e che senza tanto lasciarsi prendere da operazioni filologiche e culturali comincia ad insegnarli perché perché ha fretta perché perché c'è bisogno di questa nuova formazione giuridica abbiamo un irnerio che è un maestro di arti liberali come probabilmente era anche Pepo il quale a sua volta si incontra con i libri illegali che arrivano fuero deportati nella nostra città ma che prima di cominciare a insegnare si ferma si ferma a studiarli avvia un'operazione cosciente importante di riflessione di lettura di ripulitura che è quella che fa la differenza fra i due maestri e fra le due didattiche leggere per Pepo è fenomeno immediato spontaneo leggere per irnerio è fenomeno che passa attraverso lo studere diventa lettura diventa lezione e diventa proposta di insegnamento ai suoi studenti che la lezione del maestro recepiscono e a questo punto perché so che Andrea ha tanto da dirvi da farvi vedere sulle modalità della lettura della lezione della prima stagione dei maestri bolognesi lascio la parola al mio amico Andrea Padovani studioso della scuola dell'interprete della metà del 300 del 400 un titolo molto bello tra realtà e mito il fantasma di irnerio grazie ti ringrazio bene innanzitutto cercherò di essere del tutto sintetico perché non voglio abusare della vostra pazienza bene se avrete voglia di vedere qualche cosa oggi le immagini ci aiutano molto io ho creato con l'aiuto preziosissimo del dottor Sellari un blog che riuscirete probabilmente a esaminare se ne avrete voglia subito un'immagine di Bologna questa è un'immagine seicentesca però è tra le più belle che io abbia trovato vedete in rilievo la tinta azzurra il quartiere alle spalle di di San Petronio andando verso occidente dove probabilmente furono collocate le prime scuole ma ha già detto Nicoletta che le scuole sono sparse sono presso le abitazioni dei docenti sotto vedete il monastero dei Santi Naborre e Felice è un monastero Benedettino Camaldolese ecco in rosso dove visse e insegnò molto presumibilmente il monaco Graziano una personalità di grande rilievo perché è lui ad avviare l'insegnamento e lo studio del diritto canonico a Bologna accorrono giovani non soltanto per apprendere il diritto di Giustiniano come ci ha detto molto bene la Nicoletta poco fa ma molti altri per apprendere il diritto canonico questi due diritti sono i due pilastri della civiltà giuridica medievale sicché allora per lo più ci si laureava in utroque iure cioè in entrambi i diritti bene possiamo passare ad un'altra all'immagine qui poi se vorrete potrete vedere vedrete la sede dell'Archigginasio che voi certo conoscete molto bene dove dal 1560 all'incirca vengono raccolte tutte le scuole non solo quelle di diritto ma anche quelle di arti dunque principalmente di filosofia e di medicina ecco vedete queste immagini gli stemmi dei nobili studenti ma queste sono cose che sono certo voi conoscerete per personale esperienza adesso andiamo a vedere invece gli strumenti di lavoro andiamo subito vedete i primi glossatori chi sono i glossatori i glossatori sono i primi maestri bolognesi il primo glossatore è appunto irnerio che ha il merito e la fortuna di avere quattro discepoli di altissimo nome di grande di grande intelligenza bulgaro martino ugo e jacopo bene se noi andiamo a vedere le prime due immagini una può andare bene non c'è problema adesso li ingrandiamo ecco voi vedete questo è un codice del dodicesimo secolo con glosse molto antiche che cosa vediamo vediamo intanto che la grafia è diversa si riconosce molto facilmente ci sono due tipi di glosse dunque di annotazioni glosse non è altro che un'annotazione gli studenti sono sempre gli stessi fanno le loro osservazioni a margine fanno i loro bravi riassunti cavano il succo dei fiori di Don Ferrante avrebbe detto il Manzoni oppure talvolta sostituiscono una parola difficile di difficile di comprensione con un'altra di uso più comune bene in quest'ultimo caso sostituzione di parole abbiamo le glosse interlineari perché sono tra una linea e l'altra del testo probabilmente qualcosa si riesce a vedere ingrandendo l'immagine qui purtroppo non si può fare molto ma vi garantisco che sul vostro personal computer potrete vedere molto meglio invece le glosse che richiedono una più lunga esposizione sono ovviamente disposte ai margini bene andiamo all'ultima della serie quella là su in alto glossa preacursiana quella sull'estrema destra bene pensate che questa mi è stata passata ecco bello da un beh sì ciascuno si rallegra per le proprie cose naturalmente bene vedete anche questo è un codice del XII secolo e quello che è interessante è che si tratta di un foglio di guardia di vacchette notarili pensate molti di questi codici antichi sono stati riutilizzati purtroppo per rilegare i documenti dei notai in volumi bene vi dico Nicoletta è un'informazione che ho ricevuto pochi giorni prima pochi giorni fa un collega che insegna a Ferrara mi ha detto di aver scoperto 500 di questi fogli con glosse tutte preaccursiane cioè le glosse più antiche ci sarà lavoro non so se per noi ma sicuramente per i giovani che intendessero approfondire queste cose se riusciamo ad andare spostami l'immagine un po' più per così vai vai su vai su vai su aspetta un attimo ce n'è con pazienza adesso l'ho persa c'è un c'è una glossa che beh altrimenti la vedrete a casa che è firmata P con una P è la firma la sigla di Piacentino un grande queste glosse nei casi migliori nei casi migliori sono firmate pensate con una Y se è irnerio con una B se è bulgaro e via dicendo quello invece è una decorazione è una decorazione è un è un marca una I pensate notate vedete la scritta in rosso noi oggi parliamo di rubriche no? è vero di rubriche anche per i codici la parola rubriche viene dal fatto che nei codici medievali viene usato un inchiostro rosso dunque RUBER a tutto c'è una spiegazione eccolo il B bellissimo mi piace bestiale vedete l'ultima riga bene quella è la firma di Piacentino passiamo ad altro voi capite che in questa maniera i codici cominciano ad accogliere nei margini interventi di vari maestri diverse mani ovviamente perché il codice passa da un docente all'altro e gli spazi divengono molto ristretti per di più anche le opinioni cominciano a divergere c'è chi dice A e c'è chi dice B no? chi dice pro e chi dice contra la situazione si fa complessa di qui l'idea la grande idea lasciamo perdere l'esume la grande idea di un maestro che qui a Bologna compie la sua impresa a Cursio abbiamo palazzo da Cursio qui a Bologna e non per caso perché l'edificio è cresciuto sulla antica abitazione di questo maestro la cui tomba come ricordava Nicoletta è se voi andate dietro l'abside di San Francesco piazza Malpighi sulla sinistra al centro c'è il suo grande avversario Odofredo sulla destra invece un personaggio di miglior rilievo che è tal romandino dei romanzi vediamo cosa ha fatto a Cursio a Cursio ha fatto un po' quello che ha già fatto Giustiniano così come Giustiniano per costruire il digesto aveva fatto un'antologia dei passi più interessanti dei giuristi romani a Cursio invece fa un'antologia delle glosse molte gliene mette delle proprie però insomma tenta di fornire il testo romanistico di una glossa che sia destinata a durare sarà chiamato per questo glossa perpetua di fatto tutti gli esemplari manoscritti dalla metà del 200 fino alle edizioni a stampa del 500 richieranno sempre la glossa di la glossa di a Cursio bene proviamo a ingrandire l'immagine lassù la prima e la terza perché recano delle miniature che cosa notiamo amici notiamo che che al centro voi avete due colonne era lo stesso anche nel codice del XII secolo le due colonne abbiamo il testo del diritto romano poi è come una cornice ma ben ordinata questa volta la glossa di a Cursio vedete che senso di stabilità che si è dato no? impresa ripeto estremamente complessa perché pare che a Cursio abbia messo insieme qualcosa come 96.000 glosse pensate 96.000 glosse e disposte come vedete in perfetto ordine quindi tentando anche di conciliare le opinioni divergenti naturalmente sotto il suo giudizio e fornendo finalmente ai giudici del tempo e del tempo che verrà di uno strumento di interpretazione certo se tu sentenzi interpretando la norma di diritto romano attenendosi al pensiero di a Cursio tu sei garantito dovete sapere che una bella invenzione dei medievali è questa di sottoporre i magistrati al giudizio di sindacato oggi il consiglio superiore della magistratura non ne vuole sapere di questo però nel medioevo sono molto più esistenti vogliono vedere che chi ha giudicato lo abbia fatto come si deve quando il giudice dice io sono stato a interpretazione di a Cursio è garantito quindi questo garantisce diciamo così un un'amministrazione della giustizia pressoché uniforme in tutta Europa perché dovete pensare che gli studenti che vengono a Bologna portano dietro con sé questi codici a casa loro di cui l'espansione del diritto romano secondo l'interpretazione bolognese che ha creato quel background culturale del diritto comune a tutta Europa se io parlo con un collega belga tedesco francese mi intendo facilmente perché le fondamenta sono sempre quelle bene questo succede a partire dalla metà del 200 a Cursio muore nel 1263 700 anni dopo 700 anni prima che Gino Paoli cantasse il sapore di sale ecco se vi va bene allora questo questo è a Cursio il suo grande avversario andiamo a vedere è Odofredo ah beh sì la stessa cosa excuse me succede qualche cosa la stessa cosa dunque intanto vi dico solo che abbiamo altri bellissimi esemplari minati questi ovviamente era per chi poteva permettersi per grandi per grandi signori costruire un codice significava far fuori dei greggi interi perché il materiale scrittorio è la pergamena cioè la pelle delle pecore e agnelli la stessa disposizione vediamo un attimo per Graziano Graziano che è qui sotto lo stesso oppure va bene o Gregorio no no succede la stessa disposizione noi l'abbiamo anche per i codici del diritto canonico ecco se riusciamo a ingrandire questo ok ecco vedete è lo stesso il testo di diritto questa volta canonico su due colonne nuovamente l'apparato delle glosse questo è la glosse di Bartolomeo Bresciano e di Giovanni Teutonico diritto quindi civile diritto canonico vorrei farvi vedere solo una cosa Odofredo andiamo su Odofredo che è il grande avversario di ecco il grande avversario di di Accursio andiamo su su quell'immagine ecco Adigesto 1-1 io non so se qui si riesca pur ingrandendo a notare comunque una notevole differenza ecco cosa abbiamo cosa dobbiamo notare qui che sulle due colonne le due colonne non è riportato il testo di diritto romano è riportato direttamente il commento del giurista il testo di riferimento romanistico è scomparso o meglio il testo romanistico pensate si è ridotto a quelle poche lettere scritte lassù in grande iuri operam daturum che cosa comporta questo comporta il fatto che o lo studente ha aperto il codice in maniera tale da poter apprendere il contenuto della legge altrimenti cosa che ci stupisce ci riempie sempre di grande stupore ma è un dato di fatto questi questi signori nel medioevo possedevano a memoria i testi del diritto romano e del diritto canonico pensate oggi io credo che non vi sia persona vivente che ha letto tutto il testo di Giustiniano dico leggerlo almeno leggerlo questi signori lo possedevano a memoria e molto spesso ricordavano a memoria anche la glossa bene non sto a entrare in raffinatezze Odofredo è contemporaneo a Cursio perché muore nel 1265 dunque due anni dopo a Cursio ma lui è l'autore in qualche modo di una rivoluzione nel metodo quello che appunto sacrifica il testo di diritto romano la fonte per imporre come dire la presenza in primo piano del pensiero del giurista queste opere non sono manoscritti ovviamente avrei potuto farlo ma qui ho riportato le edizioni edizioni del 500 proprio perché questi giuristi saranno come dire consultati pensate ancora per secoli da odofredo possiamo passare ecco qui all'ultima e grande e più grande fase di insegnamento della scuola del diritto che naturalmente si afferma anche qui a Bologna ed è la cosiddetta scuola dei commentatori oggi si dice che il primo dei commentatori sia stato quel cino da pistoia che voi letterati conoscete bene amico di Dante poeta del stile novista ecco ma allo stesso tempo grande forse più grande giurista bene pare anche che fosse un gran donnaiolo se non sbaglio Petrarca dice piangete donne quando se ne va all'altro mondo benissimo questo questo grande interprete è come dire comunemente riconosciuto come l'iniziatore della scuola che prende il posto della vecchia glossa dei vecchi glossatori scuola cosiddetta del commento la tecnica e la struttura di un commento se tu riesci grazie Angelo se voi vedete ecco qui è un altro è un allievo vicino Bartolo da Sassoferrato voi vedete che il sistema è sempre lo stesso che è stato inaugurato da Odofredo cioè vediamo la legge richiamata soltanto dalle parole iniziali e poi dico tutto il resto è commento esposizione del docente questi testi erano comunemente esposti a scuola il maestro prima leggeva il testo di diritto romano i ragazzi dovevano fissarlo per bene a memoria dopodiché andava con la sua esposizione io dico la verità qui non voglio attirarmi le ire di alcuno ma tanto io sono un uomo uno studioso se mai lo sono del tutto anomalo io non sono così convinto che il Cino d'Apistoia abbia davvero compiuto quella rivoluzione che gli viene attribuita almeno nel metodo perché abbiamo già visto che questo sistema è già stato praticato dal grande avversario di Accursio come già vi dicevo bene questo sistema del commento del leggere attraverso il commento avrà una larghissima diffusione e fortuna qui abbiamo naturalmente una stampa quella di Bartolo Sosferato cinquecentesca ma se andiamo di sotto e vediamo altre immagini naturalmente ecco qui abbiamo un canonista un canonista Giovanni da Imola che fa la stessa cosa vedete come procedono di pari passo nel metodo sia i civilisti come i canonisti uguale la stessa roba stessa roba benissimo andiamo a vedere il manoscritto eccolo qui questo qui è un un manoscritto napoletano dovrebbe essere Ludovico Pontano vedete che la stampa non fa altro che riproporre la stessa struttura visivamente del manoscritto qui io mi sono ho fissato la mia attenzione sulla glossa recto A ma è la stessa cosa per il recto B bene c'è una veramente una continuità tra il manoscritto e la stampa questo è un dato che va sottolineato questa scuola la scuola del commento avrà una vita molto lunga soprattutto in Italia fino a tutto il 500 ma il sistema di diritto comune quel sistema che come dicevo prima fonda le proprie basi simultaneamente tra diritto romano e diritto canonico godrà di larga fortuna in tutta Europa addirittura in Germania fino all'Ottocento è una cultura una cultura che oggi come dicevo prima ha determinato gli aspetti fondamentali del nostro sapere in diritto io ritengo appunto che davvero nel mondo universitario noi dobbiamo trovare una delle più importanti una delle più cospicue radici dell'Europa davvero le università hanno fatto l'Europa non fosse altro perché gli studenti gli studenti sono venuti tutti assieme hanno praticato i medesimi testi hanno usato un medesimo linguaggio hanno hanno creato quella vicinanza quella comunità di sapere che forse noi dovremmo riprendere se vogliamo aprirci ad un futuro nuovo grazie per la vostra attenzione sono stato breve vero bravissima grazie molte ai due colleghi che hanno offerto questo loro sapere e che ci hanno anche dato delle prospettive hanno aperto delle prospettive di sapere di pensiero e anche delle prospettive civiche cioè in fondo sapere che facciamo un mestiere noi con gli studenti che può diventare anche radice di convivenza civile è una grande lezione che appunto questa parola universitas così bella così potente ci invita a pensare c'è qualche queste abbiamo imparato molte cose ma abbiamo anche molte domande da fare per cui ne vorremmo imparare altre naturalmente sono andato molto veloce ma se uno avesse intenzione anche di vedere questi manoscritti con relativo commento sono tutti commentati può andare al sito del mio blog se non voglio è un suggerimento perché io lo diceva prima Nicoletta così come io mi interesso di testi letterari e filosofici medievali perché c'è una coinè culturale che è importantissima no? Allo stesso modo io credo che un letterato possa prendere visione perché i rapporti allora tra queste scuole erano molto stretti c'era un fitto scambio di conoscenze e di metodi è interessantissimo approfondire questo questa enciclopedia medievale che tu ci hai di cui ci hai offerto alcune rami di questa enciclopedia e di cui appunto anche nella lezione precedente quella sulla medicina di nuovo le contiguità tra i vari saperi tra medicina filosofia la letteratura è stata ribadita quindi è un'occasione questa che come dire in minore perché noi abbiamo questo seminario che portiamo avanti con pazienza e con così senza però credo che abbia effettivamente fatto vedere queste contiguità e rivelato queste queste diciamo questi questi intrecci così forti insomma la cultura è una relazione non è mica un corpo solo di nozioni c'è qualche qualche domanda che possa come dire continuare allora io ne ho due ne ho una per Nicoletta una per ciascuno Nicoletta ha detto una cosa a un certo punto Nicoletta ha detto che i docenti studiavano in modo da poter leggere cioè rovesciando in qualche modo quello che noi siamo abituati a pensare che uno legge prima poi studia rileggendo Nicoletta ha posto questo rapporto molto molto interessante anche cioè che in fondo il docente deve studiare per poter leggere nel senso anche di insegnare e di poter leggere le cose che deve insegnare ti lascio la parola su questa inversione dei verbi nel caso di specie l'operazione che Odofredo indica come lo studere di Ernerio prima di potersi azzardare a leggere è un'operazione in realtà che non deve essere ammantata da questo abito sculturale con cui noi proiettiamo noi stessi e le nostre attitudini anche nel passato è il senso di un'operazione che fa il nuovo del Magistero Irneriano perché porta la consapevolezza di Ernerio e dei giuristi della sua generazione dei maestri della sua generazione che i libri degli manoscritti del diritto romano giustinianeo fossero ampiamente corrotti perché da molti secoli erano sepolti nei giacimenti librari perché avevano perso pagine si erano cancellate parole quindi a monte ed è molto bene descritta da un famosissimo per gli storici del diritto passo di un cronachista duecentesco burcardo di Biberac un abate che scrive una cronaca sulla leggesta degli imperatori degli erici e parla anche dei grandi uomini che erano vissuti nel secolo precedente fra i quali Ernerio e indica come Ernerio si accosta ai libri legali cominciando a correggerli a riempirli delle parole mancanti a riordinare quindi il suo è uno studere funzionale a un'operazione che li renda leggibili e fruibili poi all'insegnamento perché non lo sarebbero stati un restauro se vogliamo chiamarlo così proprio di ricostruzione filologica ripartizione e questo su essere maestro di arti liberali certamente aiuta aveva gli strumenti per poter fare questo tipo di operazione la domanda per Andrea è questa su questi testi c'è 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 mostrato almeno due modalità di questi glossatori commentatori la modalità per cui la glossa è attorno al testo o al cuore del testo marginale interneare addirittura poi assume un certo rilievo quando viene appunto presentata attraverso miniature e l'altra modalità per cui la glossa è addirittura prevalente sul testo il testo è semplicemente evocato piuttosto che non ecco in cui appunto in fondo addirittura sembra quasi che l'interpretazione cioè la glossa diciamo l'interpretazione prevalga sulla lettera stessa cioè faccia in qualche modo giurisprudenza essa stessa sulla lettera del testo ecco ti lascio la parola perché io in generale quando i miei studenti prendono appunti dico loro di stracciarli e di leggere i testi la mia parola non serve a nulla se non a evocare dei testi quindi qua invece è molto rovesciato evidentemente altre cose ovviamente altri tempi beh guarda mi complimento no mi complimento con te perché sebbene non storica del diritto hai toccato uno dei punti dei punti più importanti perché si dice si dice che con la scuola del commento vi sia una minore fedeltà al testo di diritto ormai questa minore fedeltà consente di costruire delle nuove figure contrattuali ad esempio la cambiale dico la cambiale è un nuovo strumento che viene prodotto dai giuristi del commento in qualche modo superando le strettezze letterali del diritto romano perché il diritto romano è un diritto voi pensate che come diceva giusto Nicoletta si è concluso nel 565 circa 554 e quindi a un certo momento a un certo momento quel diritto lì per quanto raffinato per quanto ben pensato doveva per forza di cose incontrare le esigenze di nuovi tempi di nuovi rapporti economici di nuove situazioni sociali e allora il testo romanistico in qualche modo certo con l'aiuto del diritto canonico che è un diritto moderno un diritto informato a principi dell'etica cristiana in questa combinazione cresce qualcosa di nuovo non c'è più bisogno di una stretta osservanza al testo e giustamente quasi metafora di questo sviluppo è la riduzione del medesimo a quell'accenno va accolta più tutto qui si costruisce sulla dialettica verba legis mens o ratio legis e i commentatori sono attentissimi alla ratio legis e ne trovano anche delle nuove spesso sembra quasi che il diritto moderno si sia costruito a partire da una lettura un'interpretazione un commento un'esegesi del diritto antico in cui il diritto antico è un'occasione per grazie grazie sei credito quanti crediti quanti crediti c'è qualche domanda prego volevo sapere se ci si può trovare un'analogia tra ciò che facevano i glossatori perché mi sembra di aver capito che spiegavano alcuni tratti naturalmente del diritto di giustiniano del corpus con quello che invece era l'uso del diritto nella Roma repubblicana o imperiale in cui degli avvocati praticamente come dire interpretavano quello che era la legge creando delle situazioni nuove cioè e poi mi è sembrato di capire che invece con giustiniano naturalmente abbia voluto fermare questa interpretazione così eterogenea che si poteva fare nella Roma antica ora non so se io potrei dire una cosa il compito è molto diverso guardi vorrei dire radicalmente diverso perché detto in poche parole perché altrimenti il giurista romano deve interpretare il mos maiorum cioè come dire la tradizione antica interpretare la coscienza popolare vuol dire storicamente deve trovare il nuovo diritto in continuità rispetto ad una tradizione che è giuridica e religiosa nello stesso tempo etica deve interpretare tutto questo deve essere la voce di un di un di un etos ecco invece per il giurista il giurista medievale c'è un testo che il diritto che il giuriconsulto romano di fatto di fatto non ha lo può avere nel caso in cui lui si occupi di interpretare l'edito del pretore è un po' diverso ma è tutto sommato un'attività un po' posteriore e poi comunque limitata il grande giurista deve invenire deve trovare la nuova legge rapportandosi a quel mondo che io gli dicevo il giurista il giurista medievale ha comunque sempre un testo di partenza che sia il diritto canonico che sia il diritto civile oppure l'uno e l'altro nella combinazione insieme deve partire da quel testo poi io le concedo che la libertà che l'interprete il giurista si assume in qualche modo nei confronti di questi testi di partenza poi cresce nel tempo ma è sempre comunque sottoposta al giudizio dalla comunità dei studiosi e quindi guardi che si è detto giustamente che mentre poniamo nel mondo anglosassone vale la regola judge makes law è il giudice che fa la legge nel mondo medievale is lawyer makes the law è il giurista che fa la legge ma la fa in qualche modo perché la sua interpretazione ha crea crea in qualche caso il nuovo diritto crea la interpretazione prevalente su determinati passi che possono offrirsi quando allora si raggiunge il consenso tra i maggiori allora in qualche modo la norma tende ad avere una interpretazione condivisa però si parte dal testo non so se Nicoletta è d'accordo su questo c'è qualche altra domanda qualche questione molti di questi studenti e di questo pubblico sono di due corsi miei archivistica e storia dell'editoria queste tipi perché ho voluto farvi intervenire in questa in altre diciamo di quel ciclo di conferenze perché penso che sia molto importante sia per gli studenti di archivistica sia per quelli di storia dell'editoria non dare nulla per scontato e volevo dire questo ad Andrea eccetera nel senso che penso che molti di questi studenti abbiano bisogno di vedere di avvicinarsi noi abbiamo fatto delle lezioni all'interno dell'archiginnasio perché l'abbiamo fatta come archivista e sono venuti anche gli studenti di storia dell'editoria di storia della stampa perché è importante vedere il luogo è importante capire quegli stemmi è importante vedere quel tipo di archivio e di carte che sono conservate due cose sulle immagini fatte vedere c'è il testo e c'è il contesto il testo voi tre poi c'è il contesto nel senso che come sono disposte voi avete visto la scrittura come è disposta la scrittura come sono fatti i margini come si passa da un tipo di carta a un altro che cosa ha significato anche nella storia del diritto diciamo la carta e poi successivamente la stampa seriale c'è la possibilità di riprodurre il testo ecco queste cose io penso che siano molto importanti le legature e naturalmente il tipo di legature che voi avete potuto vedere come proprio la disposizione del testo e dei caratteri di come cambiano ecco questo non è altra cosa rispetto alla forza del testo è dentro diciamo ecco è dentro e partecipa a un passaggio ai passaggi delle varie epoche che si possono riscontrare anche in questo modo la maggior parte sono di storia dell'editoria io avrei voluto che venissero quasi tutti quelli di storia di archivistica ne vedo a qualcuno perché questi sono è molto importante questo tipo di lezioni anche anche per loro vi ringrazio grazie a tutti il prossimo incontro è lunedì pomeriggio leggere l'armonia del corpo sarà l'ultimo incontro di questo quinto ciclo avremo insieme la medicina e la pittura in una sfida del corpo che si fa e del corpo che si dà la lettura diversa di queste varie di questi due concetti che sono al cuore delle nostre preoccupazioni grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti